So sempre più convinto, direte che so fuori, che sti ragazzi soffrono la sindrome del curi, si no come se spiega che perdon sempre in casa, un quadro e non trasferta è tutta quanta un'altra cosa, dopo il gol de me musciai, pensavo fosse finita, invece non c'erano sbracati, ho n'arrizzato la partita, un punto preso giù a Pescara, un fondo non è una brutta cosa, quel che invece non va bene, è ne perde sempre in casa. Se manchi armasti in dieci, tutta colpa dei verbi, ci ha espulso un difensore perché ha fatto troppi sgarbi, la cosa positiva è che dopo un bel po', finalmente anche video è riuscito a segnare un bel gol, mo' ce tocca a legge in casa, la vedo un tantino scura, spera anche cambi qualcosa, o i playoff saranno una chimera, comunque c'è ancora tempo, non è certo perso tutto, l'importante è che riesci, ha restato i primi otto, a sto punto mi fa chiaro, tocca a Vincenzo e Sorzanti, approfitto dell'occasione, buona Pasqua a tutti quanti!